Buongiorno a tutti. Fervono i lavori parlamentari per la conversione in legge del decreto scuola e sembra che possano intervenire delle novità in merito all'aggiornamento delle graduatorie d'istituto. Sappiamo che il decreto scuola numero 22 2020 aveva previsto il rinvio al prossimo anno dell'aggiornamento delle graduatorie d'istituto. Tuttavia un emendamento presentato dalla senatrice Granato del Movimento 5 Stelle come prima firmataria probabilmente rimetterà in discussione questa decisione presa in un primo momento dal governo. Infatti è stata proposta la riapertura delle graduatorie d'istituto con alcune modifiche. In che senso? Sappiamo che il decreto 126 2019 aveva in qualche modo riformulato il sistema di reclutamento e di conferimento delle supplenze al personale docente. In particolare aveva previsto l'introduzione di una nuova figura di graduatorie, le graduatorie provinciali, da utilizzare dopo le graduatorie ed esaurimento per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche. Il decreto legge prevedeva che i docenti all'atto dell'inserimento nelle graduatorie provinciali potessero richiedere anche l'inserimento in 20 graduatori d'istituto di 20 distinti istituti scolastici. Quindi le graduatorie d'istituto andrebbero utilizzate ancora per il conferimento delle supplenze brevi mentre le graduatorie provinciali andrebbero utilizzate per il conferimento dei posti residui da assegnare con incarico annuale o con incarico fino al 30 giugno. Ora la proposta di emendamento è volta a far partire subito l'istituzione delle graduatorie provinciali che avrebbero una durata biennale con la possibilità anche qui per i docenti di chiedere l'inserimento anche in 20 graduatorie d'istituto per la medesima classe di concorso corrispondente alla graduatoria provinciale. Vedremo se questo emendamento avrà il via libera da parte della commissione cultura e successivamente dell'aula per dare una boccata di ossigeno ai tanti precari che speravano nella riapertura delle graduatorie d'istituto sin da quest'anno. Grazie e arrivederci.